Bentornati ragazzi ancora una volta qui sul canale per un nuovo video e oggi amici miei torniamo a parlare di iPhone e in questo caso voglio parlarvi di trucchi e cose nascoste che quotidianamente utilizzo sul mio iPhone e che potrebbero essere molto molto utili per voi e per il vostro uso quotidiano per migliorare la vostra esperienza con il dispositivo e con iOS. Quindi non perdiamoci in troppe chiacchiere oggi ne abbiamo 10 ma magari ne potremo analizzare di altri e quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate della serie e della tipologia ma sappiate che questi che andremo a analizzare oggi sono quelli che effettivamente poi io utilizzo quotidianamente quindi vi parlo proprio di quelli che secondo me vale la pena effettivamente sapere conoscere e partiamo subito perché se no ci perdiamo in troppe chiacchiere e partiamo con il primo io qui mi sono scritto una piccola lista quindi ogni tanto ci vado a sbirciare e qui il primo che ho scritto è quello dedicato proprio a YouTube. Infatti diciamo che se voi aprite l'applicazione non avete la possibilità di aprire o comunque lanciare un video tramite picture in picture sul vostro smartphone tramite appunto l'applicazione stessa di YouTube questo perché appunto l'app non ve lo permette almeno che non effettuate un piccolo abbonamento a YouTube Premium perché con quello si può fare. Ma se voi aprite YouTube tramite browser nello specifico tramite Safari potete appunto tramite appunto l'iconcine che avete in alto del picture in picture lanciare il video in picture in picture e quindi fare tutto quello che volete mentre guardate poi il video. Ed è una cosa super comoda che vi consiglio solamente di provare se siete come me amanti del genere di questa funzione che in generale io trovo veramente super super utile quando non so di sera sto guardando qualcosa di leggero e voglio rilassarmi nel mentre magari faccio altro. A volte gioco e guardo video direttamente allo smartphone. Sono pazzo? Sì può essere però comunque ci sta e ve lo straconsiglio. Il secondo trucco invece si concentra sul copia e incolla rapido è qualcosa di veramente ottimo qualcosa che veramente ragazzi utilizzo tanto soprattutto quando devo prendere appunti copiare cose da siti eccetera eccetera ambito universitario e produttivo in generale infatti questo potrebbe andare anche come consiglio sul secondo canale link in descrizione per il secondo canale. Detto questo a che cosa serve? Comunque come si fa? Beh basta fare uno zoom out per copiare una volta evidenziato il testo e uno zoom in per incollare forse detto così è leggermente diciamo complicato da capire ma sicuramente con il video state un attimino interpretando il tutto al meglio. In pratica dovete pizzicare per copiare e incollare con tre dita ed è qualcosa di veramente super comodo che potreste sicuramente utilizzare nel quotidiano per velocizzare un attimino questa cosa e quindi evitare il tap prolungato. Per quanto riguarda invece il terzo trucchettino, il terzo consiglio, il terzo tips che vi voglio dare è quello che si concentra sull'eliminazione delle sveglie in maniera super rapida. Infatti spesso capita proprio che attivo 600 svegli ok e come le cancello? Beh con degli swipe che cancella, swipe che cancella oppure selezione ma potreste fare in questo modo ed è un consiglio che vi do perché secondo me è molto comodo. o meglio dire ehi sì, quelle cose lì, non lo dico perché sennò si attiva e poi dire effettivamente cancella tutte le sveglie, tappare su sì e il gioco è fatto, potete impostare tutto quello che volete. Se siete come me diciamo pazzi attivate 600 sveglie perché non ne sentite nemmeno una può essere sicuramente utile, fidatevi di me, è veramente una figata questa cosa. Non lo sapevo, l'ho scoperto su Google, anzi su Instagram, nei Reels così a caso e ragazzi da quando l'ho scoperta l'utilizzo praticamente sempre. Per quanto riguarda invece il quarto trucco, il quattro consiglio è quello che si concentra sulla registrazione di video nel mentre stiamo effettivamente ascoltando della musica. Questo è un qualcosa che effettivamente in molti mi chiedete e spesso molti di voi fate tramite applicazioni esterne ma in realtà potete farlo anche con il vostro iPhone e tramite l'app diretta di iPhone, quindi l'app fotocamera. Perché vi basta diciamo avviare un video tramite la sezione foto, tap prolungato, swipe verso destra e il gioco è fatto. Registrate il video e rimanete o comunque lasciate la musica in sottofondo, super comoda e ragazzi un tips che potrebbe essere sicuramente utile nel quotidiano nel momento in cui dovreste fare una cosa del genere. Perché spesso capita ma non fatelo in macchina come molti di voi, so che fate, vabbè non si fa, non si fa, assolutamente no. Andando avanti invece vi parlo del quinto trucco, un qualcosa che secondo me è particolarmente utile soprattutto al lato produttività perché questo trucco vi permette di aprire più applicazioni, quante ne volete, con un singolo tap. E dico questo perché a volte mi capita per esempio di aprire Evernote, Notion e Google contemporaneamente e poi tramite appunto la barra qui sotto switchare da un'app e l'altra. Ma come faccio? Beh, apro una, poi passo dall'altra, poi l'altra, poi la passo dall'altra, poi l'altra e poi passo dall'altra. Se invece voi entrate nell'app comandi e create un comando come state vedendo qui a display, adesso vi vado a leggere proprio tutto il passaggio perché dovete andare nell'app comandi, tappare sul più in alto, aggiungere azione, andare in scripting, andare in app, apri app, scegliere tutte le app che volete effettivamente aprire, fate su avanti, comunque cliccate su avanti, date un nome al comando e il gioco è fatto. Questo è quello che avevo scritto e questi sono i comandi che poi avete visto anche a display. Ed è qualcosa di veramente super rapido, super veloce, che effettivamente potrebbe velocizzare proprio l'azione o comunque questa magari feature, cosa che effettivamente dovete fare ambito produttività, università, quel che sia. e potete poi anche dare un'icona, una determinata icona tramite l'app che vi lascio comunque qui sotto in descrizione perché vi permette poi di modificare e personalizzare come volete appunto le varie applicazioni, le varie icone. E lo dovete fare sempre tramite i comandi, quindi aggiungere appunto un'icona quando andate a creare l'azione. Per fare, per scoprire e migliorare un attimino, approfondire questa cosa, vi lascio comunque un video sempre in descrizione dove vi parlo proprio di questa cosa. È semplicissimo ragazzi, si fa in due secondi. Andando avanti poi vi parlo del sesto e in questo caso vi parlo di una cosa che sicuramente conoscete o meglio la possibilità di utilizzare il trackpad sull'iPhone. Come? Beh, vi basta aprire la tastiera, fare un tap prolungato sulla barra spaziatrice e poi avete un trackpad che vi permette di scrollare e gestire il testo in due secondi. Ma se questo tutti lo sanno, comunque la maggior parte di voi lo sa, molti non sanno che con un altro tap potete evidenziare un qualcosa per copiarlo, comunque trasportarlo da una parte all'altra. Un qualcosa che effettivamente magari potreste sottovalutare ma che alla fine è particolarmente utile soprattutto quando abbiamo grossi testi da gestire e grosse cose magari da copiare. A volte fare il doppio tap, poi gestire in questo modo potrebbe essere particolarmente diciamo macchinoso e invece in questo caso potete gestire il tutto in due secondi e non utilizzarvi, non stare lì a schiacciare e a capire cosa state effettivamente evidenziando. Qui lo fate con un singolo tap e scrollando il tutto. Due secondi ragazzi è super comodo. Poi potete unirla al zoom out e zoom in che vi ho mostrato poi effettivamente prima. Un'altra cosa molto interessante è lo screenshot di un sito intero. Questo è qualcosa che in molti ultimamente stanno mostrando su Instagram e sono sincero con voi l'ho preso proprio da lì, ma da quando l'ho scoperto lo sto utilizzando veramente tantissimo. Perché non lo sapevo? Perché effettivamente utilizzo Google Chrome ma con Safari se voi fate uno screenshot di un sito potete proprio screenshotare tutta diciamo la pagina semplicemente switchando il settaggio lì in alto e quindi andando su sito per interno o cosa del genere. Comunque dal video lo state capendo. Ed è un qualcosa di molto comodo nel momento in cui per esempio il lato universitario state facendo una piccola ricerca e avete bisogno di screenshotare praticamente tutto per poi incolorarlo su Notion, Evernote o quel che sia. Molto comodo ragazzi secondo me e ve lo consiglio assolutamente. È un qualcosa che può essere molto molto utile. Detto questo andiamo avanti e andiamo subito all'ottavo trick. E in questo caso è un qualcosa che si collega ai wallpapers. Non ricordo, sono sincero, dove l'ho vista sta cosa ma da quando l'ho scoperta secondo me è veramente qualcosa di spettacolare. A volte lo utilizzo anche per qualche storia o qualcosina del genere anche per fare qualche video o qualcosa per Instagram ma comunque vi sto parlando di un metodo per creare degli sfondi animati in due secondi. Come? Beh tramite TikTok. Perché se voi andate su TikTok e cercate dei video tipo che ne so la visione di un paesaggio o quel che sia e lo scaricate e lo trasformate poi in un piccolo non mi ricordo live wallpaper una foto live voglio dire se la trasformate in una foto live potete utilizzare poi quella foto live come video e quindi nel momento in cui voi andate a tappare in maniera prolungata vi si animerà il wallpaper. Forse così non mi sono spiegato ma sicuramente dal video avete un attimino capito un pochettino il tutto ed è un qualcosa di secondo me molto molto efficace, molto interessante sicuramente potrebbe essere particolare da provare sul dispositivo. Il nono trucchettino invece è semplicemente qualcosa di divertente che una serie mi ha fatto saltare praticamente dal letto perché me ne ero dimenticato o comunque avevo attivato questa funzione ho messo l'iPhone sotto carica e lui all'improvviso ha iniziato a gridare per tutta la stanza Ah! Metti like a questo video! Ragazzi sono saltato dal letto Non so, a me mi ha fatto piangere, non so se a voi far ridere Detto questo a me mi ha fatto piangere Mamma mia l'italiano proprio oggi, portami via Ma vabbè comunque come sentivo questa funzione? Semplicissimo ragazzi, vi basta andare nell'app sempre comandi, andare in automazioni creare un'automazione e andare nel settaggio del dispositivo di ricarica e quando appunto è collegato inserite appunto una frase un qualcosa che poi lui andrà a leggere sicuramente sempre da come l'ho detto è difficile ma dal video state in generale capendo come effettivamente fare questa cosa molto divertente, non so quanto sia utile però è divertente, volevo comunque inserirla per quanto riguarda invece l'ultimo tips, l'ultimo trucco l'ultima cosa a funzione nascosta a volte è quella che si concentra in questo caso sull'inserimento di una determinata frase barra parola nel momento in cui andiamo a scrivere un qualcosina di minimo per esempio like e poi lui o comunque l'iPhone mi suggerisce la frase per intera lascia like a questo video e a questa foto, a questa cosa, a questa lì iscriviti al canale, tutto questo è qui potete iscrivere un romanzo e lui poi ve lo sostituisce in questo caso come si fa? vi basta andare nell'app ovviamente impostazioni e andare a sostituire o comunque tramite gesti e tutte queste cose qui andare a sostituire e creare questa specie di comando in un certo senso un qualcosa di effettivamente molto molto comodo che vi consiglio soprattutto se come me spesso andate a scrivere cose abbastanza simili detto questo io vi ringrazio come sempre il supporto mi piace un abbraccio, fatemi sapere cosa ne pensate di questo video fatemi sapere cosa ne pensate di questi trucchi fatemi sapere cosa ne pensate di questa serie fatemi sapere cosa ne pensate di questo canale iscrivetevi al canale, iscrivetevi al canale ci vediamo prossimamente con un nuovo video un bacione abbraccio, da giù è tutto ciao